La città ha scelto, il mio grande grazie va a tutti i nostri sostenitori, va anche a chi non ci ha sostenuto perché ha dato un chiarissimo messaggio. Quindi ha chiesto che Silvia Luconi insieme a Monia Proretti, Silvia Datò e Francesco Colosi, che sono i consiglieri eletti, ma comunque insieme alla mia coalizione, dovessero sedere sui banchi della minoranza. Quindi faremo un'opposizione attenta e ovviamente costruttiva, vigileremo nella vita, ma anche in politica. Una volta si vince, una volta si perde. Questa volta abbiamo perso, dopo dieci anni, di vittorie importanti. Sicuramente questa è stata un'amministrazione che ha preso anche delle posizioni molto forti e quelle posizioni forti sono quelle che creano all'interno di una comunità delle fazioni, per così dire. Perché comunque quando ti esponi e ti esponi fortemente è naturale che si creino delle situazioni importanti e il risultato di questo voto ne è una chiarissima esemplificazione. Un grazie ancora. Io questa sera chiaramente il primo commento è a caldo, magari domani o nei prossimi giorni, ragionando ancora di più sul voto, vedendo quello che è successo nelle varie sezioni, potranno essere dette anche delle altre questioni che questa sera non riesco ad analizzare. Sono molto serena. Sono serena perché in questa campagna elettorale sento di aver dato tantissimo insieme a loro. Ora certamente ci dobbiamo analizzare per capire come ricostruire e ricostruiremo.